Ti prende la voglia di click Con la macchina fotografica digitale e CD-ROM di Barbie fotografi senza la pellicola inserisci subito i tuoi scatti nel computer Il suo programma digitale mille foto puoi creare Io e Barbie! Guarda com'è facile decorare le tue foto preferite Non finisci mai di fare click e puoi creare un mini-kill Fatti prendere dalla voglia di click Con la macchina fotografica digitale e CD-ROM di Barbie Grazie